Musica Eeeh ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti Sono sempre Yomujaidin, l'ultimo dei talebani napoletani Qui prontissimo per invitarvi ad una live, una live di presentazione di un nuovo gioco Mutant ER0 Road to Eden, un gioco ragazzi esagerato, una cosa meravigliosa Perché è un gioco di combattimento a turni strategico con dei mutanti, con dell'RPG Insomma è da vedere, è da vedere, ho visto qualche video ma mi ha catturato subito Mi interessa moltissimo anche perché sembra essere molto simile a XCOM 2 E quindi per la miseria ragazzi, un titolone incredibile Ragazzi allora il 22 dicembre 2018 alle ore 14.00 Oggi praticamente alle ore 14.00 ci vediamo insieme Giusto per vedere, presentare questo gioco e scoprirlo insieme Insomma la cosa più bella è scoprire i giochi in compagnia Quindi siate numerosi, accorrete tutti È un modo anche per scambiarci gli auguri di Buon Natale Insomma, Mutant ER0 Road to Eden ragazzi Quindi io c'ho il mio maialazzo pronto al combattimento Non mancate, ci vediamo più tardi alla scoperta di questo splendido gioco Ciao ciao ragazzi A dopo eh